ci occupiamo oggi di giuseppe parini il primo poeta la cui intera opera può dirsi civile ossia politica cioè volta al bene comune parini fu il primo dopo secoli e secoli dopo dante che abbia unito l'alto senso morale della vita con gli alti intenti della letteratura che è buona solo se utile al miglioramento della civiltà contemporanea i versi tratti dal lode la caduta ci insegnano proprio questo leggiamoli insieme va per negletta via ognò l'util cercando la calda fantasia cioè l'ispirazione poetica che sol felice quando l'utile unir può al vanto di lusinghevo il canto e l'ispirazione poetica è felice e dunque raggiunge il suo apice soltanto quando può unire l'utile al dire al dilettevole cioè alla bellezza del verso parini era nato a milano il poeta milanese per eccellenza esattamente vicino milano a bosizio che oggi si chiama bosizio parini in provincia di lecco che qui vediamo esattamente sulle rive del lago di pusiano a sud ovest del lago di como queste sono invece le opere del parini leggeremo oggi una parte del giorno tratta dal mezzogiorno e qui trovate uno schema che potete leggere fermando il video è uno schema sulla sua poetica questa è la vergine cuccia un episodio molto noto del mezzogiorno quando si trovano a tavola a banchettare gentiluomini e gentildonne innanzitutto diciamo che il poemetto del giorno è un poema didascalico diviso in quattro parti mattino mezzogiorno vespro e notte in cui il poeta finge di fare da precettore ad un giovin signore a cui insegna appunto l'arte di vivere da nobile e qui in questo episodio che può essere diviso in quattro parti assistiamo nella prima parte al discorso di un commensale che dimostra tutta la sua sensibilità e compassione per gli animali dicendo di essere vegetariano e di odiare chi maltratta e uccide gli animali nella seconda parte la giovane dama del giovin signore ricorda quando la sua cagnetta ha morso un servo ed è stata calciata da lui nella terza parte è descritta la reazione della cagnetta che sembra chiedere vendetta e la reazione dei servi tutti che temono il licenziamento dell'empio dell'empio servo nella quarta parte c'è la descrizione delle conseguenze del povero servo effettivamente licenziato e costretto a vivere di elenosina lui e la sua famiglia leggiamo ora i versi pera colui che prima osò la mano armata alzar sull'innocente agnella e sul placido bue nel truculento cor gli piegaro i teneri belati nei pietosi mugiti nelle molli lingue lambenti tortuosamente la mano che loro fatto ai maestri in gea dunque muoia colui che per primo osò con la mano alzata uccidere l'innocente agnella dunque la cui mano osò alzarsi contro l'innocente agnella e sul placido bue sul pacifico bue né il suo cuore truculento sanguinolento o meglio come dire crudele fu piegato dai teneri belati della pecora o dell'agnello né dai pietosi mugiti né dalle lingue di questi animali che sono soliti leccare la mano di chi ha il potere di togliere loro la vita queste sono le parole dette pronunciate dal commensale vegetariano tal ei parla o signore ei è un arcaismo e o signore è un come momento di vocazione che potremmo considerare un apostrofe perché appunto abbiamo detto che il poema del giorno è un poema di da scarico in cui Parini finge di essere nell'io lirico un nell'io narrante un precettore cioè l'insegnante privato del del giovin signore e sorge intanto al suo pietoso favellar dagli occhi della tua dama dolce lagrimetta pari alle stille tremule brillanti che la nuova stagione gemendo vanno dai palmiti di bacco entro commossi al tiepido spirar delle primaure fecondatrici. Notiamo innanzitutto quanto sia lungo il discorso la frase del del Parini lo stile del Parini. Allora stiamo dicendo a questo discorso sorge intanto dagli occhi della tua dama una dolce lacrima somigliante alle stille tremuli brillanti è una similitudine alle gocce che alla nuova stagione la perifrasi per dire per dire primavera vanno gemendo come se piangessero dalle foglie di bacco i palmiti sono sono proprio i tralci della vite. Entro commossi da dentro mossi fuoriusciti al tiepido spirar delle primaure fecondatrici come se fosse il vento primaverile che è fecondatore e che fa uscire fuoriuscire queste gocce dai palmiti della vite. Notiamo innanzitutto le figure retoriche della perifrasi, nova stagione per indicare primavera, poi l'uso della componente mitologica nella parola pacco che era il dio del vino e ancora il latinismo di palmiti per indicare i tralci. Or le sovviene il giorno, hai ferro giorno, dunque ora si ricorda di quel giorno crudele, feero, feroce, allorché la sua bella vergine cuccia, la sua bella cagnolina, alunna delle grazie, delle grazie alunna, questo non solo è un iperbato perché c'è l'inversione di due elementi nell'ordine consueto della frase, l'iperbato è proprio questo, ma c'è anche un'ironia perché c'è una ripresa molto intellettuale dell'epiteto che Omero aveva dato ai re, li aveva chiamati di Zeus alunni e così la cagnolina è detta delle grazie alunna e chiaramente il tono è ironico. Giovenilmente vezzeggiando questa cagnolina, cioè giocando come fanno i cuccioli, aveva segnato di lieve nota al verso 522, segnò di lieve nota, è una metafora per dire che morse con le burne o dente e un asinetto che, cioè il singolare al posto del plurale, con i denti bianchi come l'avorio e burneo vuol dire d'avorio, il piede villano del servo, che tutto sommato cioè poteva essere anche morso in quanto villano. Ed egli audace, audace nel senso antico della parola, cioè come dire, offensivo nei confronti della divinità, con sacrilego, ecco lo ripete, sacrilego, piede, lanciolla, le diede un calcio. E quella tre volte rotolò, tre volte scosse gli scompigliati peli e dalle molli inari soffiò la polvere rodente. Questo tre volte, peraltro ripetuto due volte, un'iterazione, è un chiaro intento parodico per sottolineare l'enfasi patetica. Dietro questa espressione c'è un esplicito riferimento alla tradizione di tre grandi autori del passato. Innanzitutto Virgilio, quando nell'Eneide fa incontrare Enea con il padre Anchise agli inferi. Enea tenta di abbracciarlo per tre volte, ma per tre volte abbraccia l'aria, cioè non riesce ad abbracciarlo. Il secondo esempio è tratto dal Purgatorio, dal secondo libro, dal secondo canto del Purgatorio, in cui Dante fa abbracciare al suo io lirico con l'amico Casella che si ritrova appunto in Purgatorio. Per tre volte, questa è una ripresa virgiliana, tre volte dietro a lei le mani avvinsi, a lei anima, perché si tratta dell'amico Casella. Infine, Turquato Tasso, quando avviene il duello tra Tancredi e Clorinda, per tre volte il cavaliere la stringe, ma non con l'abbraccio diamante, perché sapete, ne era innamorato, ma non sapeva che stava combattendo proprio con la sua donna e alla fine la uccide. Tre volte il cavaliere, la donna stringe, appunto è un chiaro rimando a quel tre volte usato da Virgilio. Tre volte gli scompigliati peli e dalle molle nari sovviò la polvere rodente. Continuiamo a leggere. Indi i gemiti alzando a Ita, Ita parea dicesse, dalle aurate volte lei l'impietosita eco, rispose. Dunque sembrò chiedere aiuto a Ita, Ita è una onomatopea per indicare anche il suono del guaito del povero cane. E dai soffitti dorati a lei rispose l'eco. L'eco è una ninfa delle montagne che era stata punita da Hera a ripetere le ultime parole che le venivano rivolte. E dagli infimi chiostri i mesti servi asceser tutti. Dunque dal più basso piano del palazzo salirono i servi e dalle più alte stanze del palazzo scesero le damigelle pallide e tremanti perché tutti sanno quello che sta per accadere perché evidentemente era un'abitudine assistere ai capricci della giovane dama. Accorse ognuno, il volto fu spruzzato d'essenza, addirittura la giovane dama sviene e la rinvenne al fin. L'ira, il dolore, l'agitavano ancora. Ancora era arrabbiata pur dopo essere rinvenuta. Fulmine i sguardi gettò sul servo. Dunque questa è una metafora per indicare lo sguardo cattivo con cui si rivolse al servo. E con l'anquida voce chiamò tre volte la sua cuccia e questa al sen le corse. In suo tenor vendetta chiedere sembrò, in suo tenor cioè a suo modo la cagnolina sembrò chiedere vendetta. E tu vendetta avesti vergine cuccia delle grazie alunna. Ecco qui a questo punto è chiaro l'intento parodistico. L'empio servo tremò. Qui è utilizzato, è utilizzata l'antifrasi cioè esprimere un concetto di pietà nei confronti del servo chiamandolo empio, chiamandolo cattivo, cioè utilizzando parole contrarie a quello che si vuole dire. con gli occhi al suolo udì la sua condanna. Fu licenziato. A lui non valse merito quadrilustre perché per vent'anni aveva servito quella casa. A lui non valse lo zelo di avere secretato diversi episodi della vita di quella casa. In van per lui fu pregato e promesso dunque forse qualcuno come dire intervenne in suo favore ma tutto in vano. Ehi nudo andonne se ne dovete andare, nudo, cioè lasciando l'assisa di cui, l'assisa è la divisa di cui si vestiva e che era il suo vanto. In vano vello signor sperò, in vano cercò lavoro altrove perché le pietose dame, anche questo pietose è un'antifrasi perché non sono affatto pietose nei confronti del povero servo. Inorridirono e odiarono l'autore del misfatto atroce. Anche questo è un'altra antifrasi. Il misero si giacque con la squallida prole. Dunque il misero servo rimase con la squallida prole e a questo punto c'è il tono tragico della povera famigliuola, nuda anche la consorte, sulla strada, furono gettati sulla strada, spargendo per la via l'inutile lamento, cioè chiedendo l'elenosina. E tu vergine cuccia, idol placato dalle vittime umana, esti superba. Ancora un'altra metafora che fa somigliare la vergine cuccia a un idolo che viene placato soltanto da una vittima umana. E lei poteva andare superba, poteva inorgoglirsi di avere avuto sacrificata la vita di un'intera famiglia, quella del povero servo. Per vostra comodità, diciamo, qui c'è l'elenco delle figure retoriche che abbiamo analizzato e che è possibile trovare in questo testo. Buon lavoro!